Bentornato Goodlier, bentornata! Iniziamo questa nuova decade di lezioni parlando dell'installazione di programmi. Vorrai ovviamente iniziare a utilizzare il sistema operativo, quindi devi cominciare a installare i programmi che ti necessitano, quelli che ti permettono di raggiungere lo scopo per il quale hai comprato il computer. Ma come si fa? I programmi sono anche detti applicativi, sono composti da una serie di istruzioni che permettono al computer di eseguire degli ordini, dei compiti in relazione alla necessità per cui un determinato programma è stato creato. Un programma si può presentare in vario modo, può essere memorizzato su un supporto ottico, su un disco rigido esterno, d'interno, un appendrive, qualsiasi altra periferica insomma. Esplorando tale supporto si potrà presentare come un singolo file che può essere magari di pochi kilobyte, fino ad avere una corposità molto grande e raggiungere anche dei valori di gigabyte, vedi i sistemi operativi. Sostanzialmente non ti interessa quanto debba essere pesante a meno che tu abbia qualche problema di spazio sul disco rigido, ma piuttosto come installare il programma. Diciamo che i programmi possono essere suddivisi grossolanamente due grandi famiglie. I programmi installabili e i programmi portabili. I primi per poter essere utilizzati, quindi avviati, necessitano di essere installati, non memorizzati, ma installati all'interno del sistema operativo. I secondi invece non presentano questa necessità e quindi possono essere avviati direttamente dal supporto dove risiedono, che può essere un cd, un dvd, una pendrive, un disco rigido interno ed esterno, la scheda interna anche a uno smartphone, paradossalmente. Proprio per questo motivo sono definiti portabili, dall'inglese portable o stand alone. Una volta compresa la differenza sostanziale, ora ti porto a vedere come devono essere installati i programmi. Lo scopo del processo di installazione è quello di trasferire il contenuto di un file o più file del programma all'interno della partizione dove è installato il sistema operativo e normalmente questa partizione è etichettata con la lettera C. All'interno di essa c'è una cartella normalmente denominata programmi. Bene, l'installazione trasferirà tutti i file necessari per far funzionare quel determinato programma all'interno di questa cartella. Per fare ciò viene eseguita una procedura che può durare da pochi secondi a qualche minuto. Durante questa procedura avviene quindi la scrittura di tutti i file necessari per far funzionare quel determinato programma all'interno del sistema operativo e del suo cuore, ossia del suo registro. La procedura ha inizio cliccando sul file di installazione, qui evidenziato in figura con l'estensione .exe. La caratteristica dell'estensione di un programma di installazione è avere il suffisso o .exe, executable dall'inglese, oppure .msi. Queste due estensioni etichettano il file e lo categorizzano come applicazione, quindi come un programma. L'estensione, ti ricordo, è una stringa alfa numerica che definisce quindi la tipologia del file stesso. Con questa specifica estensione o .exe o .msi si comprende quindi che questa istruzione contenuta all'interno del programma è definita come applicazione. Questo file, in pratica questo programma, è in grado di installare ciò per cui è stato creato all'interno del sistema operativo, quindi in quanto tale può avere natura benevola o malevola. Se lo installi per una tua necessità, quindi con coscienza sarà un programma che hai deciso di installare, altrimenti potresti avere dei problemi in quanto potrà essere un programma che contiene un codice maligno e quindi un malware in generale, il quale nella migliore delle ipotesi ti darà semplicemente fastidio, rallenterà magari il computer, ma nella peggiore ti farà male perché sarai in grado di capire alcuni tuoi dati sensibili. Torniamo ai programmi benevoli. Se questo programma, ad esempio, è stato creato per installare dei driver, esso ti permetterà al termine dell'installazione di pilotare una periferica a cui è strettamente correlato, quale può essere una stampante, uno smartphone, una pendrive, lettori vari, scanner, tavolette grafiche e così via. Se è stato creato per installare un programma, al termine della procedura ti permetterà proprio di utilizzare l'applicazione che hai deciso di installare. Come puoi individuare questo file? Se non hai eseguito delle variazioni alle impostazioni del sistema operativo, non troverai evidenziate normalmente le estensioni del file stesso. Ecco quindi che per visionarlo individua all'interno del pannello controllo il pulsante opzione cartella e cliccaci sopra. Ora, nella finestra che ti si apre, seleziona la scheda visualizzazioni e con la barra di scorrimento individua questa sigla, ossia nascondi le estensioni per i tipi di file sconosciuti. Se trovi un segno di spunta, normalmente sarà così, deselezionano e poi clicca su ok. Da questo momento in poi ogni file sarà visualizzato con una determinata sequenza, che normalmente è il nome del file, il punto e le estensioni. Cosa accade durante l'installazione? Beh, abbiamo detto che devi cliccare rapidamente due volte sul file eseguibile che normalmente, come credo avrai già capito, prendi il nome dal programma stesso oppure una sigla riconducibile ad esso o in alternativa può avere la sigla setup.exe. In essenza di questo nome potrai individuare il file di installazione tramite esplora risorse. Vai a individuare la colonna tipo e sotto la colonna tipo vai a ritrovare quel file che presenta la sigla applicazione. A questo punto partirà una serie di schermate che dovrai sorvegliare e con le quali potrai in alcuni casi interagire. La cosa che volevo sottolineare è che la sequenza delle schermate deve essere monitorata, controllata per evitare di trovarti di fronte a situazioni di cui non ti troverai cosciente. Questo può capitare in quanto a volte si clicca con superficialità per una generica fretta sui vari pulsanti che si presentano uno dopo l'altro durante il processo di installazione. No, questo non è un bene, perché nella migliore delle ipotesi ti può affilare tutto liscio senza che tu debba interferire oppure senza che il programma ti chieda qualcosa in particolare, come ad esempio un'interazione per proseguire o per eliminare dei file durante l'installazione stessa. Ma a questo punto oserei dire che la fretta gioca a tuo sfavore se non fai attenzione, perché potrebbero venirti proposte durante l'installazione alcune funzionalità, alcuni programmi generati, creati da aziende che magari sono affiliati con quello che ti fornisce il programma che stai installando e quindi ciò ti può portare involontariamente ad accettare con questa serie di clic con superficialità, ti può portare ad accettare alcuni programmi periferici che possono non servirti, ad esempio una toolbar che potenzialmente potrebbe anche migliorare l'utilizzo del computer o l'esperienza della tua navigazione, possibile, ma almeno devi esserne cosciente. Potresti anche accettare involontariamente un consenso che normalmente ha già preselezionato, con il quale il programma di contorno può accedere a tuoi dati sensibili, quindi in sintesi fai attenzione durante l'installazione. Preoccupati di leggere ciò che ti presentano le varie schermate. di norma infatti non dovrebbe accadere nulla di grave, però sinceramente può essere fastidioso ricevere materiali oppure delle comunicazioni un po' troppo personalizzate, questo perché magari il programma che involontariamente hai installato va ad individuare un tuo profilo studiandoti durante la tua navigazione e quindi tracciando ciò che vai a cercare, ciò che vai a consultare. A te la scelta quindi se eseguire una installazione con una certa superficialità o con forte attenzione. Come puoi evitare di cadere in questa trappola sostanzialmente? Beh, segui due processi operativi, uno è quello di avviare e portare a termine l'installazione personalizzata sempre e non quella che normalmente ti viene consigliata, quella classica, quella standard. Esegui questa procedura anche per i programmi banali, senza togliere nulla alle qualità di ogni programma ovviamente, ma per farti capire che è necessario eseguire questa procedura anche per programmi leggeri, semplici e apparentemente innocui e gratuiti. Altra cosa, controlla e quindi leggi ogni passo, ogni schermata che si presenta durante il processo di installazione. Seguendo questi due passi verosimilmente non cadrai in questa fastidiosa trappola. Al termine dell'installazione alcuni programmi ti potrebbero richiedere un ulteriore passaggio che è quello del riavvio del computer. Questo perché a volte devono inserire magari la loro icona nella Sistray, Sistray che ricordo è quella barra accanto all'orologio, oppure alcuni parametri all'interno del registro del sistema operativo e ciò non è possibile farlo a caldo, quindi a sistema operativo avviato. Per cui ti chiederanno di riavviare il sistema e così possono cambiare alcune impostazioni di registro. Puoi decidere di acconsentire immediatamente a questo riavvio oppure rimandarlo allo spegnimento del computer. Non cambia nulla assolutamente. Come vedi non è affatto difficile attuare tali azioni durante l'installazione e soprattutto non è necessario essere un guru o un laureato in informatica. Devi semplicemente stare attento e non avere fretta. Alternativa che spesso utilizzo e in alcuni casi prediligo è quella di far uso di applicazioni e quindi programmi stand alone, quelli portabili, che non necessitano di installazione. Si possono presentare come un unico file oppure come un insieme di file o cartelle che comunque lavorano egregiamente senza la necessità di essere installate all'interno del sistema operativo. Tra l'altro, proprio per questo motivo, non appesantiscono le dimensioni di quest'ultimo perché non vanno ad essere memorizzati all'interno del sistema operativo o sporcare eventualmente il registro. Li puoi avviare semplicemente dalla periferica nella quale si trovano, nella quale sono memorizzati. Il programma si avvia nella sua piena funzionalità cliccando rapidamente due volte sul file eseguibile, quindi quello con l'estensione exe. Proprio a riguardo ti indico un sito che è foltissimo di applicazioni portabili che puoi trovare a questo indirizzo. Ad una pagina interna di questo sito trovi una lista incredibile di programmi portabili. Devi semplicemente scaricarli e utilizzarli. Allora Guter, vediamo come installare un programma. Prima cerchiamocelo, visto che magari non lo possiedi su un tuo supporto, quindi apri il tuo motore di ricerca e supponi di dover installare un programma. Prendiamo ad esempio uno molto semplice ma molto performante dal punto di vista della pulizia. Ccleaner, quindi io digito Ccleaner, già verosimilmente nella prima voce trovo il programma che mi serve per l'installazione. Ci clicco sopra e vediamo cosa accade. L'azienda che lo produce è proprio la Piriforme, quindi clicchiamo sopra questo pulsante e andiamo nel sito. Qui ci sono anche le versioni a pagamento di questo programma ma andiamo a prendere quella gratuita, la versione free. Quindi clicchiamo su i pulsanti che ci permetteranno di scaricare il programma e vediamo cosa accade. Questa è la pagina di presentazione del programma stesso. Qui in alto a destra troviamo il pulsante proprio per scaricare l'ultima versione. Clicchiamoci sopra. Dopo qualche secondo ti verrà mostrata una finestra che ti chiede il salvataggio del file. A seconda del programma che hai installato e alle sue impostazioni interne potrai cliccando sul pulsante salva file o scaricare immediatamente il programma, il file stesso all'interno di una generica cartella del computer oppure all'interno di una specifica cartella se hai variato le impostazioni per il download. Clicchiamo comunque su salva file e dopo qualche secondo avremo scaricato il programma dove in questa lista noi possiamo con il pulsante destro cliccare sul file e avere un menu generato nella quale opzione troviamo apri cartella che mi permetterà di visionare dove è scaricato il programma. Già ho impostato la visualizzazione dell'estensione del file stesso quindi come puoi ben vedere questo programma è l'estensione .executable. Cliccando due volte sul file stesso si avvierà il processo di installazione. Qui avrai una richiesta di notifica, potrai essere avvisato o non avvisato nel caso in cui un programma richieda l'installazione potrai abortire l'installazione stessa cliccando su annulla ma noi dobbiamo installare il programma quindi clicchiamo su esegui. Ad una prima schermata avremo la possibilità di selezionare la lingua del programma stesso clicchiamo su ok. Ora il programma ci dà il benvenuto per l'avvio dell'installazione del programma. Clicchiamo pure su avanti. Qui dobbiamo eventualmente leggere tutti gli avvertimenti per la licenza d'uso se vuoi puoi anche tralasciare questa lettura anche se in alcuni casi è richiesta prima di poter proseguire. Una letta grossolana magari dagliela perché ci possono essere delle opzioni particolari che è bene conoscere nell'utilizzo del programma stesso proprio per non trovarti a disagio quando ti si presentano cose di cui tu eventualmente non eri cosciente ma che erano comunque riportate all'interno di queste licenze d'uso. Detto questo clicchiamo su accetta la licenza d'uso per avviare l'installazione. Qui puoi decidere di lasciare selezionato o deselezionare alcune opzioni come aggiungere o meno il collegamento sul desktop per l'avvio del programma stesso, aggiungere o meno il collegamento nel menu start, quindi all'interno di una cartella del menu start che creerà il processo di installazione. Puoi decidere di aggiungere o meno la scritta avviaci cleaner o aprici cleaner nel menu relativo al cestino oppure puoi anche deselezionare o selezionare la ricerca di aggiornamenti per far sì che il programma quando si avvia ti notifichi la presenza o meno di aggiornamenti. Di norma io deseleziono tutte queste opzioni lasciando eventualmente soltanto il collegamento sul desktop. A questo punto non ci resta che cliccare su installa per avviare il processo di installazione. Ma noi prima di avviare questo processo andiamo a vedere cosa ci presenta quest'altro pulsante. Il pulsante avanzate. Qui ci presenta due possibili opzioni. L'installazione per tutti gli utenti è l'installazione personale. Clicchiamo su installazione personale e successivamente su avanti. In pratica eseguirai un'installazione personalizzata che ti permetterà eventualmente di deselezionare o selezionare altre opzioni. Andiamo su avanti e notiamo che il programma ci indica dove verrà installato il programma, quindi all'interno della partizione C dove c'è il sistema operativo all'interno del quale è presente una cartella program files e all'interno di essa troverai il programma Ccleaner. Qualora volessi cambiare l'ubicazione ma non te lo consiglio per facilità puoi cliccare su sfoglia ed andare a individuare tipo esplorare risorse una cartella o una posizione che credi migliore. Andiamo avanti con la nostra installazione e torniamo nella pagina precedente. A questo punto clicchiamo su installa e si avvia il processo di installazione. Dopo qualche secondo o dopo qualche minuto potresti aver terminato, in questo caso se vuoi puoi togliere i segni di spunta prima di avviare il programma e cliccare su fine oppure se vuoi avviare il programma dopo che è terminata l'installazione lascia selezionata l'opzione eseguici Ccleaner e clicca su fine. Al termine si avvierà il programma che avrai appena installato e lo potrai utilizzare appieno. Prima di terminare questa lezione una precisazione però. Se per qualche motivo l'installazione non dovesse andare a buon fine puoi tranquillamente ripercorrere il processo sin dall'inizio. riavviando il processo potrai aver verificato alcune situazioni che sono l'installazione di nuovo del programma come se nulla fosse accaduto, la sovrascrittura o la riparazione dell'installazione interrotta o la rimozione del programma stesso e la disinstallazione con successiva reinstallazione del programma. Il primo caso ne viene da sé, quindi il programma si rinstalla semplicemente come se non avessi mai installato lo stesso, anche se già è presente all'interno del sistema operativo. Nel secondo caso invece il programma di installazione può rilevare che c'è già un programma installato ed eventualmente ti chiederà di sovrascriverlo oppure di ripararlo se fosse danneggiato perché magari l'installazione non è stata portata a termine o addirittura rimuoverlo. Infine nell'ultimo caso potrebbe aver rilevato la presenza di un programma sì, ma con versione precedente, quindi ti potrà chiedere di disinstallare il programma e quindi la sua versione precedente e al termine della quale verrà automaticamente avviata l'installazione della nuova versione. Bene, nella prossima lezione farai tua la metodologia di come disinstallare i programmi dopo che hai imparato ad installarli. Ora un forte saluto, ciao a presto, tagalli e alla prossima!